L'età della pietra è finita, ma non perché è finita la pietra, bensì perché il mondo va avanti. Da questa riflessione partiamo per parlare di transizione ecologica, o meglio dell'impatto sociale ed ambientale della transizione ecologica. Benvenuti quindi alla prima puntata del progetto Eco più Eco, l'industria del futuro tra transizione ecologica ed economia circolare, un progetto di terza missione dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo, e Confindustria Pesaro Urbino, in collaborazione con Lega Ambiente. In ogni puntata parleremo del futuro del nostro pianeta e proveremo a capire come possono le aziende e i singoli cittadini fare la loro parte attivamente e positivamente. Scopriremo aziende del territorio e le buone pratiche da mettere in atto e ne analizzeremo gli aspetti tecnici e ambientali insieme all'Università e Lega Ambiente. In questa prima puntata, come ho detto, parliamo di transizione ecologica e lo facciamo insieme ai nostri ospiti, a cui passo a dare il benvenuto. Innanzitutto il presidente di Lega Ambiente, il dottor Stefano Ciafani. Benvenuto. Sì, buonasera. Abbiamo con noi Carlo Durante, fondatore e amministratore delegato di ETA Blades, un'azienda fanese e leader nella produzione di paleoliche innovative. Benvenuto. Grazie per l'ospitalità. E Fabio Polonaro, professore ordinario di fisica e tecnica industriale all'Università Politecnica delle Marche. Benvenuto, professore. Grazie, salve a tutti. Partiamo a parlare con il presidente, appunto il presidente di Lega Ambiente, il dottor Ciafani. La prima domanda che le pongo è questa. Che cos'è e a che punto siamo con la transizione ecologica? Beh, la transizione ecologica, diciamo, è un passaggio di sistema. È un passaggio dall'era delle fossili, quella che abbiamo vissuto dall'industrializzazione del pianeta in cui si utilizzava carbone, petrolio, gas, alla nuova era in cui anche la luce della crisi climatica è evidente ormai a tutti, dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto fino ad oggi puntando sull'innovazione tecnologica, puntando sullo sfruttamento di quelle che ormai, insomma, sono quelle fonti rinnovabili a portata di mano che permettono di produrre energia elettrica, produrre energia termica, sfruttando quelle fonti che si rinnovano continuamente, contrariamente alle fossili, che non solo non inquinano perché non producono enti locali, quelli che alimentano lo smog sui territori, le polveri sottili e quant'altro, ma che danno anche una mano concreta per ridurre le emissioni di gas serra, le emissioni climalteranti, che stanno ormai facendo impazzire gli equilibri climatici. Siamo in una fase di passaggio importante, in pochi ormai negano la crisi climatica, a parte qualche voce abbastanza surreale, c'è in atto la transizione ecologica perché stanno facendo diverse cose, la sfida vera sta nel fare in modo che questa transizione ecologica sia la più veloce possibile, perché il rischio più concreto non sono tanti i negazionisti della crisi climatica quanto i rallentatori della transizione ecologica che non fanno altro che fare gli interessi di chi estrae o brucia quel gas, carbone e petrolio che ci ha portato alla situazione ambientale e climatica che ormai è sotto gli occhi di tutti. Professor Polonara, abbiamo appunto parlato di che cos'è la transizione ecologica, ma le vorrei chiedere come si fa la transizione ecologica. Un altro modo per definire la transizione ecologica è decarbonizzare l'economia e la società. Come si fa la decarbonizzazione? Tre modi, rivedere i paradigmi dell'agricoltura industriale, smettere di tagliare la foresta pluviale, cominciare a riforestare anche le città, smettere di usare i combustibili fossili. Quest'ultima modalità è quella che dal punto di vista quantitativo è in grado di fornire il contributo più importante. sappiamo bene che dal sole arriva sulla terra in ogni ora una quantità di energia, l'energia rinnovabile appunto, che è più di quella che l'umanità consuma in un anno. Quindi non è un problema di quanta energia rinnovabile possiamo avere a disposizione, quanto la nostra capacità di sfruttare l'energia che arriva dal sole. Quindi è un problema di tecnologia, è un problema di ingegneria. Siamo capaci di sfruttare l'energia che ci arriva dal sole perché la tecnologia è matura, negli ultimi 20 anni ha avuto degli sviluppi sensazionali. Naturalmente esistono ancora un sacco di problemi nello sfruttamento delle energie rinnovabili, problemi che siamo abbastanza sicuri che verranno risolti nei prossimi decenni. Chiudo dicendo che non dobbiamo essere troppo timisi, dobbiamo essere pragmatici. La transizione ecologica non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, occorreranno probabilmente diversi decenni perché possa essere completata. La cosa importante, come diceva anche il Presidente di Legambiente, è che bisogna cominciare da subito, da oggi, da domattina dobbiamo cominciare. Forse anche da ieri si poteva cominciare. Infatti volevo rivolgermi a Carlo Durante con questa riflessione. Come ci ha detto il Professor Pollonara, di transizione ecologica si parla tanto e si parla da tanto, da tanto tempo. Quindi quanto è una novità questa transizione o quanto invece è una cosa che stiamo un po' portando avanti da tempo e dobbiamo ancora imparare bene a sfruttarla al meglio? Viviamo nella transizione, abbiamo sempre fatto la transizione. Da che ci ricordiamo abbiamo fatto la transizione? Noi abbiamo cominciato, come è già stato ricordato prima, bruciando carbone, utilizzando l'acqua. C'è una centrale idroelettrica al centro di Fano, la liscia, che tutti possono andare a guardare per capire come funziona. È semplice, sta lì, c'è un fiume, l'acqua passa e si produce energia elettrica. Quindi avevamo delle risorse tante disponibili, carbone e acqua. L'acqua va ancora bene, il carbone è un po' di meno, perché ci piace un po' di meno, inquina un po' di più. Poi è diventato disponibile l'atomo. Negli anni 70 ha cominciato a espandersi l'industria del nucleare, ma anche quella non ci piaceva. Fra l'altro fu proprio legambiente a promuovere il referendum che nell'87, anche a valle del grande incidente di Chernobyl, disse che l'Italia non vuole più utilizzare l'energia nucleare. E allora si andò verso il petrolio. Altra fonte in quel momento molto disponibile. E poi verso il gas. Dopodiché una cosa che già da decenni si discuteva, le energie rinnovabili, hanno cominciato a diffondersi. E adesso le stiamo utilizzando parecchio. Direi che c'è una grande percentuale di energia elettrica che viene prodotta da fonti rinnovabili. Quindi la transizione l'abbiamo sempre fatta. Perché l'abbiamo fatta? Prima di tutto perché abbiamo utilizzato le materie prime che più ci erano disponibili. Piccolo problema, molto spesso queste fonti di approvvigionamento per le materie prime, come il carbone, ma anche come il nucleare, anche come il petrolio e come il gas, sono delle fonti che provengono da paesi, da nazioni un po' difficili. Facciamo l'esempio della Russia in questo momento per il gas. Sappiamo che c'è qualche problema con la Russia. Allora c'è un problema di capire se quella fonte da cui dipendiamo è anche sicura per la produzione di energia elettrica nazionale. Le rinnovabili, per esempio, aiutano molto su questo. Il sole sta dovunque, l'acqua sta dovunque, il vento sta dovunque. E quindi noi produciamo un'energia che non dipende da un altro paese straniero. Primo punto. Secondo punto, anche molto importante. Prima l'energia era un'emergenza nazionale. Bisognava che tutti avessero l'energia. E quindi si statalizzò, si nazionalizzò, si resero nazionali tutte le imprese private che producevano energia elettrica. C'erano grandi centrali statali. Il modello adesso non è più quello. L'impianto lo posso fare sul tetto di casa. Quindi vent'anni fa abbiamo liberalizzato la produzione e poi la vendita dell'energia elettrica fino ad arrivare adesso in cui l'energia elettrica la posso produrre io stesso sul tetto di casa con un piccolo impianto fotovoltaico. Ecco che allora il modello è completamente diverso. Questo significa arrivare a un'energia molto più democratica di prima e probabilmente, come anche diceva il professor Polana da prima, a costi decrescenti. Qual è l'altro grande vantaggio delle rinnovabili? Nel tempo il costo degli impianti rinnovabili è sceso fortemente. Per cui il costo dell'energia rinnovabile è competitivo rispetto alle energie tradizionali. Questa è la transizione. Ci siamo sempre stati dentro. Il punto adesso è chi la paga. La transizione ecologica costa. E la differenza rispetto a prima è che lo vediamo tutti quanti. Quindi spesso ci si fanno delle domande. Ecco le resistenze che citava Ciafani prima. Certo, sicuramente la parte economica può essere un buon incentivo da parte delle aziende e dei cittadini, oltre che ovviamente all'aspetto ambientale. Però, come ha detto, ci sono dei vantaggi concreti, dei vantaggi pratici. Allora vorrei chiedere al presidente Ciafani se ci sono altri vantaggi concreti per proseguire questa transizione ecologica e se ci sono degli esempi virtuosi, degli esempi di casi che hanno portato dei vantaggi nella vita di tutti i giorni. Beh, i vantaggi sono molteplici. Abbassiamo i costi della bolletta energetica del paese, non solo quella impazzita dopo le speculazioni dei produttori di gas partite dopo le prime ondate del Covid, della ripartenza dell'economia, molto prima dell'aggressione militare russa in Ucraina. diventiamo più indipendenti, non dobbiamo comprare fonti energetiche dall'estero, utilizziamo quelle che cadono sul nostro, la nostra testa, o soffiano sul nostro vento, il sole appunto e il vento in primis, sfruttando anche, ovviamente, tutte le altre fonti rinnovabili. Questo dà un contributo concreto non solo alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, dà anche un contributo concreto a ridurre i problemi di inquinamento atmosferico. Noi siamo in procedura di infrazione per l'Europa, per malamchiato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria. In questo paese muoiono prematuramente 55.000 persone ogni anno a causa dell'inquinamento atmosferico. Questi dicono i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Ci permette, essendo più indipendenti energeticamente, di ridurre le tensioni a livello internazionale, perché insomma, non saremo più complici delle guerre che si fanno per approvvigionarsi di petrolio, pensiamo alla guerra in Iraq all'inizio del 1990, le guerre che si fanno per accaparrarsi le fonti energetiche, in primis quelle più utilizzate, penso al gas, e quella servitù energetica che crea sui territori, in giro per il mondo, il continente africano, ma non solo, tutta una serie di tensioni che innescano dei conflitti. Quindi sviluppare le rinnovabili, sviluppare l'innovazione tecnologica, ridurre l'uso dei combustibili fossili, e anche una operazione di peacekeeping indirettamente e questo va ricordato. Ci sono diverse esperienze sul territorio nazionale, faccio qualche esempio, insomma, noi non siamo solo il paese dell'abbigliamento d'alta moda, delle auto di grande lusso o dell'agroalimentare made in Italy che è conosciuto in tutto il mondo, siamo anche il paese che è in grado di mettere in campo impianti, infrastrutture che sono unici al mondo. Penso all'impianto che in provincia di Rovigo è in grado di produrre il butandiolo, il butandiolo è un intermedio, un prodotto chimico che serve per produrre le bioplastiche, quelle che vengono utilizzate per fare i sacchi per l'asporto merci o gli sacchi della spazzatura per la raccolta dell'organico. solo un'impianto al mondo è in grado di produrre il butandiolo da fonte rinnovabile, dagli scatti agricoli, ed è questo impianto che è in Italia, in Veneto, tutti gli altri impianti in giro per il mondo lo producono il butandiolo da petrolio. A Catania in costruzione, anzi è in ampliamento perché la fabbrica era già presente, è in ampliamento di 15 volte la fabbrica di pannelli fotovoltaici che diventerà fra un anno quando entrerà in esercizio l'impianto ampliato, la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici d'Europa che produrrà i pannelli fotovoltaici ad oggi più performanti in termini di rendimento elettrico in quanto, diciamo, quanta energia solare viene trasformata effettivamente in energia elettrica. Siamo, come dire, il paese che è stato in grado di fare la raccolta differenziata più avanzata a livello internazionale nelle metropoli, penso a quella di Milano, che è molto più avanzata di quella di Berlino, di Monaco, di Baviera o di altre capitali del nord Europa. Insomma, ci sono esperienze concrete sul territorio nazionale, alcune sono all'avanguardia a livello mondiale, bisogna fare in modo che queste esperienze puntuali diventino un sistema per tutto il paese e su questo ovviamente serve da una parte la volontà politica nazionale, quella dei territori, bisogna autorizzare velocemente i nuovi impianti e poi dall'altra parte bisogna creare quel consenso territoriale che è fondamentale. Su questo le associazioni ambientaliste hanno una grande responsabilità perché non si può dire che bisogna combattere la crisi climatica e poi gli impianti eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, le reti ferroviarie nuove, gli impianti di digestione anaerobica per potere biometano li dobbiamo fare da un'altra parte. No, vanno fatti sul territorio nazionale in tutta Italia, in tutte le regioni, a partire dal centro-sud, anche il nord deve dare il suo contributo, ma gli impianti, le infrastrutture per l'innovazione tecnologica e per ridurre le emissioni di gaserra vanno fatti e questo è bene che lo sappiano anche gli ambientalisti. Una parte del mondo ambientalista sbaglia pesantemente perché contesta tutto e continua a dare una mano ai signori delle fossili e questo è un grave errore. E su questo l'incontro tra lega ambiente e le aziende del territorio è sicuramente promettente. Come promettente è il quadro nazionale e internazionale che ci ha appena raccontato il Presidente Ciafani. Ma vorrei chiedere, Professor Pollonara, un quadro un po' più locale, un quadro regionale. La nostra regione Marche, abbiamo parlato dell'Italia, ma appunto la nostra regione, a che punto è nella transizione ecologica? La regione Marche storicamente ha un problema dal punto di vista energetico. La produzione di energia elettrica è sempre stata molto inferiore a quello che è il consumo in regione. Allora, questo difetto potrebbe diventare un'opportunità in considerazione del fatto che la transizione energetica si fa anche e soprattutto cambiando gli usi finali e spostandoli verso l'energia elettrica. Il trasporto leggero dal motore a combustione interna va verso il veicolo elettrico, il riscaldamento degli ambienti dalle caldaglie a gas va verso le pompe di calore elettriche. Allora, l'opportunità è quella di produrre energia elettrica sul territorio da fonte rinnovabile. È facile a dirsi, è difficile a farsi, perché fare energia elettrica rinnovabile sul territorio, soprattutto nella nostra regione, si può fare sfruttando l'energia eolica a largo del mare adriatico, il cosiddetto eolico offshore. Questo è tutto sommato fattibile, ma servono grossi investimenti, e poi aumentando la superficie di territorio utilizzata per il fotovoltaico. Questo è un problema, come diceva poc'anzi il Presidente Ciafani, perché c'è una grossa opposizione. Allora, dal territorio, bisogna che cerchiamo di occupare quanto più possibile i tetti delle case dei capannoni industriali che costellano le vallate marchigiane e dobbiamo trovare un accordo con l'agricoltura per cercare di sfruttare il più possibile questo benedetto agrivoltaico. Al momento gli agricoltori nicchiano, non sono d'accordo sullo sfruttamento dell'agrivoltaico, che è il fotovoltaico accoppiato con le colture, quindi non che sostituisci le colture. Io aspico che si trovi un accordo quanto prima e almeno una piccola porzione del territorio possa essere utilizzato per questi scopi. Caro Durante, il Professor Pollonara ci ha dato dei suggerimenti su come le aziende, oltre che i cittadini, possono fare la loro parte. lei che è un imprenditore ed è dentro appunto il mondo delle aziende del territorio, le chiedo come si stanno muovendo le nostre aziende presenti su tutta la regione, stanno facendo qualcosa di concreto? hanno cominciato a rendersi conto che questa è una tendenza inarrestabile. Quindi, rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima, in effetti, la transizione ecologica a questo punto non è soltanto far arrivare l'energia elettrica a tutti, che era l'istanza strategica precedente, o liberarsi dalla dipendenza da paesi strani e stranieri. questa volta è il desiderio di tutti e quindi non è soltanto il consumo di energia o la produzione di energia, ma è tutto un movimento trasversale. Abbiamo detto prima, abbiamo citato l'agrivoltaico, però sempre per parlare di marche e marche, il bianchello del metauro bio è una cosa che oramai tutti i produttori di vino si pongono come obiettivo o già stanno affrontando. Per cui, questa è una cosa che attraversa e attraverserà sempre di più qualunque tipo di settore. Allora, le aziende. Pian piano è cresciuta una consapevolezza. Da iniziali esperimenti sparuti che erano separati fra di loro e questo è il motivo per cui Confindustria ci ha anche spinto a pensare questa serie di incontri con Fano TV, è venuto fuori un gruppo che pensa insieme. Quindi, la risposta è stata assai più importante che non non semplicemente un'azienda, due aziende, tre aziende ma è un tessuto industriale che è cresciuto e sta crescendo e lavora sempre di più insieme rispetto ai tanti temi che sono la ingegneria e abbiamo grandi aziende che sanno fare ottima ingegneria di impianti di progettazione, di realizzazione e di gestione degli impianti elettrici di produzione innovabili sono anche a Fano. Queste aziende hanno bisogno di persone, l'effetto istantaneo è quello di creare formazione e di creare e attrarre talenti dalle marche e da fuori. Di solito era il contrario, le marche hanno perso talenti, adesso riattraggono talenti. Questa è la prima immediata conseguenza di questo movimento trasversale. la seconda cosa è recuperare altre competenze che temporaneamente erano sottoutilizzate trasformandole e facendo venire fuori qualcosa di nuovo. Per esempio il nostro esperimento è stato quello quando la nautica non aveva più modo di saturare le risorse gli impianti e le persone noi abbiamo preso le competenze nautiche e abbiamo cominciato a fare pale per le turbine eoliche. Ho sempre scherzato dicendo che dico ai miei che stanno costruendo barche di forme strane perché è la stessa identica cosa quindi utilizzare quelle competenze per la transizione ecologica è disponibile è possibile ed è quello che si sta facendo quindi il messaggio vero è da tante esperienze separate fra di loro si sta costruendo un network l'effetto è quello di far crescere molto le aziende probabilmente sviluppare settori disponibili qui per altre imprese operanti sul territorio ma anche non necessariamente sul territorio c'è un forte sviluppo di eolico offshore cioè fuori dalle coste sull'Adriatico anche di fronte a Fano che richiederà ingegneria costruzione gestione componentistica ecco che noi siamo pronti quindi questa è un'occasione di sviluppo industriale e di servizi per il territorio che porterà ricchezza guardiamo la transizione ecologica come fonte di ricchezza per quanto ci riguarda benissimo io chiuderei questa riflessione appunto con una domanda al professor Polonara abbiamo parlato dei benefici che la transizione ecologica ci può portare questi benefici indubbiamente hanno dei costi questo non possiamo negarlo ma la riflessione appunto che vorrei porle è quanto ci costa non fare invece una transizione ecologica questa è una bella domanda perché spesso si levano sui media voi ci spaventate di chi si domanda quanto ci costerà questa transizione ecologica quanto ci costerà spostarci verso gli rinnovabili quanto ci costerà comprare tutti quanti il veicolo elettrico quanto ci costerà sostituire la caldaia a gas con la pompa di calore secondo me la domanda va ribaltata e giusta quella che faceva lei quanto ci costerà non fare la transizione ecologica secondo me ci costerà ci costerebbe non fare la transizione ecologica molto di più che farla provo a spiegare un attimo perché lasciando da parte un attimo i costi del cambio climatico dell'inquinamento delle città eccetera dal punto di vista puramente energetico la transizione energetica non farla significherebbe rimanere nell'economia dei combustibili fossili ora trovare i combustibili fossili è sempre più difficile bisogna trovarli a largo degli oceani oppure nell'artico o nell'antartico questo comporta dei costi sempre maggiori per estrarre i combustibili fossili costi maggiori che se non vogliamo caricarli sull'utente finale portano le imprese ad avere dei ritorni decrescenti mentre le energie rinnovabili man mano che aumenta lo spettro dello sfruttamento delle energie rinnovabili un po' come è successo con i telefonini e con i personal computer vanno a diminuire i propri costi e per gli investitori portano ritorni crescenti questo è un aspetto fondamentale dal punto di vista energetico dal punto di vista economico scusate che sposterà gli investimenti degli investitori più importanti verso le energie rinnovabili non per spirito ambientalista ma perché gli conviene quindi da un punto di vista economico secondo me il problema grosso è non fare la transizione energetica oltre ad una serie di altri aspetti che sono stati già anche sviscerati nel colloquio di oggi per esempio il problema dei posti di lavoro non delocalizzabili ma che rimangono sul territorio sono posti di lavoro importanti la diminuzione dell'inquinamento locale la sicurezza energetica sono tutti fattori che uniti all'aspetto economico ci fanno dire non fare la transizione ecologica è un grave danno per l'economia e la società sicuramente tantissimi spunti su cui riflette le osservazioni importanti io ringrazio tutti voi ringrazio i nostri ospiti a partire dal presidente dell'Elega Ambiente Stefano Ciafani grazie del tempo che ci ha dedicato grazie a voi grazie al professor Polonara dell'Università Politecnica delle Marche grazie a voi e grazie a Carlo Durante di ETA Blaze grazie ancora a tutti voi appunto per il tempo che avete dedicato oggi ma anche per l'impegno che dedicate nel rendere il mondo un po' migliore di come lo avete trovato grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata grazie a tutti